francesco totti dopo il divorzio con il lari blasi sembrava aver trovato serenità con noemi bocchi tuttavia nuove voci riportate da dagospia e gente parlano di un presunto flirt del pupone con un'altra donna domani su gente potremo vedere le foto di totti con la presunta nuova fiamma maria luisa giacobelli lei volto noto dello sport e della televisione avrebbe confermato il flirt con il campione le immagini mostrano totti e maria luisa giacobelli entrare in un hotel di roma e uscire insieme un'ora e mezza dopo la giacobelli ha confermato la relazione con il pupone sottolineando che 2 più 2 fa 4 se ci sono le foto è evidente la presunta nuova fiamma di totti è figlia del direttore di tutto sport e giornalista sportiva la notizia del presunto tradimento di totti nei confronti di noemi bocchi arriva dopo le dichiarazioni di fabrizio corona che aveva parlato di prove di una relazione tra il calciatore e una showgirl resta da capire se la showgirl in questione sia proprio maria luisa giacobelli il tempo dirà se le risposte arriveranno da altre fonti o se l'interessata confermerà